Per la fine dell'anno mia moglie l'ho bruciata, viva. Beh quando uno brucia si vedono le ustioni nelle parti del corpo che bruciano, ma mia moglie era talmente bruciata che non solo non si vedevano le ustioni ma non si vedevano neanche più le parti del corpo bruciata, più che bruciata era fusa, liquida. Come si è andata che l'ho bruciata io non mi ricordo più ma mi ricordo che mia mamma mi ha detto distratto, sei sempre stato distratto ma adesso non essere anche disordinato, raccoglila almeno, no? E' sempre tua moglie, e beh come faccio io a raccogliela? Non vedi? E' brodo. E' scivolata sul pavimento e si è allargata tutta sotto i mobili. Lasciamola lì, tanto dopo un po' si secca, si raschia via, si passa la cera e tutto torna come prima. Però se mi sposo un'altra volta vuol dire che faccio poi un po' più di attenzione, ecco.